Stasera attenzione a come parliamo, soprattutto quando parliamo di calcio, perché stasera c'è un appuntamento importante, ci arriviamo dopo. Allora, da una parte un bel campo di calcio, dall'altra parte le state vedendo le trivelle, quindi in base alla sua esperienza, su quale campo è più difficile, più complicato stare? Sono complicati tutti e due, il calcio riserva sempre sorprese, per cui non sono tranquillo nemmeno per stasera, tranquillo proprio o no. E diciamo, il mondo delle trivelle... Ma perché non fate questo applauso su non sono tranquillo, voi dovete applaudire invece. Mentre il mondo delle trivelle non mi lascia tranquillo in Italia, perché i nostri connazionali hanno paura di tutto, hanno paura di tutte le infrastrutture, non vogliono che succeda mai niente, sono dei conservatori. E quello che in Italia è impossibile, in qualunque altro paese si potrebbe fare con facilità. Ne parleremo più avanti, trivelle, rigassificatori, autostrade, è tutto difficile nel nostro paese. Quindi delle due cose mi preoccupano di più le trivelle. Sta dicendo Scaroni che in un certo senso la guerra ha messo in luce scelte un po' sbagliate, già fatte in passato, è stato un po' un acceleratore. Cioè che senza la guerra non staremmo qui a parlare di questo? Dunque, beh, allora, noi italiani abbiamo fatto delle scelte, abbiamo scelto di non sfruttare il gas nazionale. Nel passato, vi do soltanto una cifra perché poi queste cifre continuano a tornare, in Italia si consumano 70 miliardi di metri cubi di gas. Nel passato ne abbiamo prodotti fino a 20, oggi siamo scesi a meno di 3, quindi avessimo quei 20 miliardi di metri cubi ci guarderemmo davanti con più tranquillità. Abbiamo rinunciato al nucleare, venendo qui passavo davanti a Caorso e ho visto la centrale ferma. Una scelta che ci ha posto il gas come grande strumento per produrre energia elettrica, avessimo le quattro centrali nucleari che avevamo programmato, avremmo altri 15-20 miliardi di metri cubi di gas di cui non avremmo bisogno. Quindi diciamo, noi abbiamo fatto delle scelte che ci hanno portato all'importazione di gas. L'abbiamo importato da molti paesi, in particolare dalla Russia perché la Russia ci dava un gas a buon mercato, vicino perché arrivava via tubo e non liquefatto, con accordi che duravano addirittura dall'Unione Sovietica. Quindi con una tranquillità di forniture assolutamente stabile. Poi in questo scenario, io spesso dico che la Russia è stata, per l'Italia, ma non solo per l'Italia, un po' come il Texas per gli Stati Uniti. La fonte di materie prime che ci ha consentito di sviluppare la nostra industria e anche l'industria energivora. A fronte di tutto questo poi è cominciata l'invasione della Crimea. Ecco, quella poteva essere una campanella un po' d'allarme e nel 2014 poi avremmo forse potuto modificare un po' il nostro atteggiamento. Perché effettivamente l'invasione della Crimea, che magari sotto un profilo storico trova anche qualche giustificazione, perché la Crimea è sempre stata russa fino a quando Khrushchev non l'ha regalata all'Ucraina. Ma dico, a parte questo, questo ha mostrato un Putin e una Russia che invece di evolvere positivamente verso un'economia di mercato, un'economia liberale come tutti ci auguravamo, faceva un passo indietro e tornava verso il nazionalismo russo che è sempre stato... Questo è un aspetto importante perché di fatto nel 2006 era la guida dell'Eni quando poi fu stipulato l'accordo più importante con Gazprom, quindi di fatto lei sta dicendo che se io le chiedessi di Putin quando ha firmato l'accordo e poi nel 2014 qualcosa già era cambiato. Sì, beh diciamo io non è che l'ho, non era un accordo nuovo, io ho rinnovato un accordo che era stato fatto addirittura all'epoca dell'Unione Sovietica e che veniva rinnovato ogni tanti anni. L'ho rinnovato con una certa tranquillità e anzi vorrei dire sotto la pressione del fatto che l'Algeria, che è sempre stato l'altro nostro fornitore, aveva consumi crescenti interni e produzioni calanti, quindi ci trovavamo nella necessità di comprare il gas russo. Allora mi chiedo ogni tanto, io non ero più a Lenin nel 2014 all'epoca dell'invasione della Crimea, ero appena andato via, mi credo cosa avrei fatto, cosa avrei potuto fare. Francamente non lo so anche perché mi interessa sempre piuttosto poco guardarmi indietro, mi piace di più guardarmi avanti, ma certamente quella è stata, diciamo, l'Occidente, l'Italia, la Germania, i due grandi amici occidentali della Russia, pensavano che attraverso il commercio, attraverso rapporti sempre più frequenti, la Russia si sarebbe democratizzata. Ecco, questo purtroppo non si è verificato, la Russia resta la Russia, resta un paese supernazionalista, io leggo nei giornali spesso la guerra di Putin, credete a me questa non è la guerra di Putin, nella guerra della Russia, purtroppo, forse la guerra di Putin potremmo dire è un uomo, è un uomo che l'ha condotta, lì no, è proprio la Russia che è nazionalista così. Sì, Saroni, e arriviamo ad oggi, quindi abbiamo detto 2006-2014, invasione del 24 febbraio, a questo punto la prima scelta è stata quella di partire con le sanzioni. Sì. Sanzioni che poi nel corso del tempo, a giudicare da quello che è stato l'impatto, da quelle che sono state le conseguenze per i diversi paesi, le hanno fatto fare qualche considerazione. C'erano alternative alle sanzioni? No, dunque, allora, secondo me non c'era un'alternativa alle sanzioni, non è che potevamo rimanere impassibili noi occidentali e noi NATO a un'invasione militare in Europa. No, dovevamo reagire e le sanzioni erano lo strumento, alla fine, meno pericoloso per agire su questo. Poi magari faremo un capitolo sull'efficacia di queste sanzioni, ma lasciamo perdere per il momento. Diciamo, io l'unica considerazione che faccio è che in quella famosa riunione della NATO in cui si è deciso di fare sanzioni alla Russia, era palese per me, ma credo per molti, che le controsanzioni della Russia alle sanzioni nostre avrebbero riguardato il mondo del gas. E che quindi il prezzo del gas sarebbe salito perché la disponibilità di gas russo sarebbe scesa. Bene, intorno a quel tavolo della NATO in cui la decisione è stata presa, c'erano paesi come il nostro che dicono, ma se il prezzo sale soffriremo moltissimo e paesi che invece di questo momento del prezzo avrebbero beneficiato, lo diceva prima il Presidente Allegri. La Norvegia non ha mai vissuto una bonanza come quella che sta vivendo in questo momento. Gli Stati Uniti vendono il loro gas a un prezzo che è il triplo di quello a cui lo vendevano un anno e mezzo fa. Allora mi chiedo, non si poteva a quel tavolo, in quel momento, dire ma facciamo un price cap per voi norvegesi, voi americani che ci fornite il gas. Ecco, cioè tenere completamente separato il tema sanzioni e come reagiamo tutte insieme alle controsanzioni è una cosa che mi ha sorpreso. Come mi ha sorpreso, se posso continuare su questo tema, quando la nostra Presidente von der Leyen faceva pacchetto 1, pacchetto 2, pacchetto 3, pacchetto 3, ve lo ricordate tutti questi pacchetti che continuavano a fare i pacchetti di sanzioni, come nessuno le abbia detto, scusa, tu vuoi la nostra unanimità per le sanzioni, ok te la diamo, ma ci dai anche l'unanimità di tutti su come reagiremo a far fronte all'aumento di prezzi, in modo da evitare, no, cioè, non riesco a capire, l'unanimità c'è per fare le sanzioni, ma non abbiamo l'unanimità per come reagiamo. Per cui la Germania, che se lo può permettere, fa un pacchetto di 200 miliardi, noi non li abbiamo e quindi non lo facciamo. Di nuovo cito il Presidente Allegri, creando degli scompensi all'interno dell'Unione Europea di cui soffriremo tutti noi. Questo però potrebbe essere un po' la condizione per mettere insieme l'Europa, per compattarla, Scaroli. Io ne parlo proprio, non tanto per rimangare il passato che mi interessa piuttosto poco, ma questo tipo di ragionamento può essere ancora fatto, certamente con Norvegia e Stati Uniti, ma anche di fronte all'Unione Europea. Cioè, l'Unione Europea non può chiederci l'unanimità intermittenza. O le facciamo su tutto o non le facciamo su niente. Ma da questo punto di vista penso che l'atteggiamento potrebbe essere molto più produttivo. Ed è per questo che stiamo vedendo l'euro più debole nei confronti del dollaro, secondo lei? Sì, io penso che l'economia, e qui potremmo parlare un po' del futuro, l'economia europea sta soffrendo, soffrirà e continuerà a soffrire di un divario di prezzi dell'energia tra l'Europa e gli Stati Uniti, che rimarrà così per i prossimi dieci anni. Io personalmente penso che il costo dell'energia in Europa sarà tra il doppio e il triplo del costo dell'energia negli Stati Uniti. Il che implica, parlo a voi imprenditori, delle scelte. Perché se io dovessi oggi costruire uno stabilimento che produce piastrelle di ceramica, faccio per dire, quindi che usa un sacco di gas, beh, ci penserei due volte se farlo a Sassuolo o se farlo a Dallas in Texas. Ecco, quindi voglio dire, ci sono dei ragionamenti che dobbiamo fare. Per carità, non è che perché il costo dell'energia sarà maggiore vedo disastri nell'economia europea. Faremo fronte a questo. Il Giappone ha avuto costi dell'energia più alti dell'Occidente per tanti anni e si è sviluppato. Quindi c'è sempre poi modo di reagire in modo positivo e innovativo ai problemi. Però non c'è dubbio che ci stiamo costruendo un futuro che vede il nostro continente poco competitivo in termini energetici. A meno che la guerra con la Russia non finisca presto e io sono fiducioso che questo avvenga. Perché fiducioso? Sono fiducioso perché... Dunque, allora, io la penso così. Tutto questo si decide a Washington. Non è che lo decidiamo noi. No, noi siamo al traino di quello che viene deciso a Washington. Allora, io sono stato negli Stati Uniti la settimana scorsa, tra parentesi, proprio a Washington. Oggi c'è il voto interno per Biden. Oggi si vota. Vedo degli articoli su giornali liberal americani, che sono stati i più inclini alla guerra fino ad oggi, che cominciano a cambiare tono. Ho l'impressione, diciamo, vedo un'irritazione da parte degli americani su atteggiamenti degli ucraini che loro considerano un po' troppo audaci. Un po' smargiassi. Poi, poveri ucraini, mi rendo conto che poi in guerra non lo dico. Quindi io sono abbastanza fiducioso che questo finisca. Ma non basta. Perché per ritornare a avere rapporti con la Russia abbiamo bisogno che finisca la guerra e io penso che Putin non sia più lì. Perché faccio fatica a immaginare una Russia con Putin in carica che riprende i rapporti che aveva con l'Occidente. Troppo è successo, troppo si è detto. E quindi questi sono due passaggi che mi sembrano necessari. E' pur vero però che si è creato questo circolo vizioso. Perché il prezzo del gas che sale fa crescere l'inflazione. Di fatto lo stiamo vedendo. Al momento una prima strada è stata quella di rialzare i tassi di interesse. In questo l'Europa, la Banca Centrale Europea sta seguendo la Federal Reserve. Scaroni è come se l'Europa fosse come l'America. È come se l'inflazione europea fosse come l'inflazione americana. Sì è vero, sono due inflazioni diverse. Anche se anche negli Stati Uniti, molto meno che da noi, il costo dell'energia è salito. Io credo che la Banca Centrale Europea faccia salire i tassi di interesse. Anche perché se no la caduta dell'euro continuava. L'euro ha perso quasi il 20% verso il dollaro negli ultimi 18 mesi. credo che continuerà a alzare i tassi di interesse ma con maggiore cautela degli Stati Uniti. Proprio perché la nostra inflazione ha un'origine diversa e non è alzando i tassi di interesse che si potrà calmarla. Intendiamoci, il denaro costa sempre pochissimo. Perché di fronte a un'inflazione dell'8-9% pagare il denaro, il 3 o il 4, è una cosa che nei libri d'economia non si era mai visto. Ci spiega il prezzo di gasto per arrivare poi alle rinnovabili. Perché uno dei tanti tormentoni a cui stiamo assistendo è la speculazione. Ci spiega proprio, secondo lei Scaroni, il prezzo giusto per questo momento? Perché anche leggere le percentuali, quando si parla di stoccaggi, si dice il 95% che ci arriviamo per quest'inverno ce la facciamo. No, scusi, adesso ne voglio approfittare per spiegarvi una cosa che secondo me solo gli addetti lavori hanno capito bene. Dunque, noi stocchiamo del gas. Cioè, prendiamo dei vecchi giacimenti esauriti e ci mettiamo gas a pressione. Stocchiamo circa 13 miliardi di metri cubi. Allora, voglio dirvi due cose. Prima, a cosa servono questi 13 miliardi di metri cubi? Servono a che, siccome d'inverno, con il riscaldamento delle case, i consumi aumentano, servono a coprire la differenza tra il gas che continua ad arrivare e l'aumento dei consumi invernali. Però deve continuare ad arrivare il gas. Cioè, non è che quegli stoccaggi coprono i consumi invernali, coprono il delta tra i consumi invernali e i consumi estivi. Vi faccio un esempio. Mentre noi stiamo parlando, ogni giorno arrivano circa 25 milioni di metri cubi di gas russo al Tarvisio e entrano nella rete italiana. Se domani venissero a mancare, beh, questo ci causa un problema. Dice, abbiamo gli stoccaggi? Sì, abbiamo gli stoccaggi, ma non servono a coprire il fatto che quel gas manchi. Non so se mi sono spiegato bene. Poi, secondo tema, per cui mi vedete un po' preoccupato. Man mano che gli stoccaggi si svuotano, perché quando cominci a usarli, invece di 13 miliardi diventano 12, 11, 10, 9, 8, man mano scendono, meno gas si riesce a estrarre al giorno, perché la pressione del giacimento, di questa specie di giacimento che è lo stoccaggio, diminuisce. Diminuendo la pressione ne viene meno su. Per darvi un'idea, quando inizia la stagione, oggi, uno può estrarre 130 milioni di metri cubi al giorno. A marzo ne può estrarre 60. Perché la pressione non ti consente di tirarlo fuori. Cosa concludo? Che noi temiamo, noi, il mondo del gas, teme il freddo tardivo. Teme che faccia molto freddo a marzo, a fine marzo. Per darvi un'idea, nel marzo di tre o quattro anni fa, l'Italia ha consumato 400 milioni di metri cubi in un giorno. Beh, se quest'anno succedesse la stessa cosa, faremo fatica perché la somma del gas che ci arriva ogni giorno, più quello che potremmo estrarre dai stoccaggi a fine marzo, non sarebbe sufficiente a 400 milioni di metri cubi. Quindi, concludo, non mi aspetto tragedie, però non è che siamo sicuri al 100% per quest'inverno. Lo siamo ancora meno per l'inverno prossimo, ma non voglio darvi un terrore portazione. Scaroni, guadagnare tempo. E allora, veniamo a quelle che sono state un po' le proposte, quelle che potrebbero essere le soluzioni, quelle che le piacciono, quelle che proprio non le piacciono. Partiamo dall'attento al prezzo del gas. Beh, lei si sposta dal tema sicurezza dell'approvvigionamento al tema prezzi. I due temi sono diversi, no? Allora, innanzitutto comincerei col dire che purtroppo, purtroppo, l'aumento di prezzi è il modo migliore per ridurre i consumi di gas. Io credo che se chiedessi a voi, che siete qua oggi, ma spegnete la luce in casa di più o di meno dell'anno scorso, scopro che probabilmente li spegnete un po' di più, perché state un po' più attenti. E questa è la cosa migliore. Naturalmente consumare meno è la cosa migliore. Allora, da questo punto di vista, la sicurezza dell'approvvigionamento, diciamo a medio termine, noi la assicureremo soltanto se siamo in grado di sostituire tutto il gas russo. Guardate che quest'anno ne abbiamo ricevuto metà di quello che contrattualmente ricevevamo e magari l'anno prossimo ne riceviamo zero. Se dobbiamo sostituirlo con gas liquido, che arriva ad altri paesi. Dopo potremmo dire quali paesi. Allora, intanto dobbiamo avere le strutture per rigassificarlo. Quindi mi auguro che Piombino e Ravenna entrino in funzione, perché ne abbiamo assoluto bisogno. Poi dobbiamo avere il gas liquido. E lì, adesso non voglio spendere una lancia sul mio passato, ma la forza dell'Italia è che c'è l'Eni. E l'Eni è in Angola, in Congo, in Mozambico, in Egitto, in Algeria naturalmente, dove ha fatto scoperte di gas. Quindi ha trovato lei del gas. E quindi questo gas dovrà essere liquefatto, portato in Italia e rigassificato. Non solo in Italia naturalmente, ma anche in Italia. Quindi, da questo punto di vista, questa sostituzione deve avvenire rapidamente. Non sono sicuro che riusciremo a fare tutto questo per l'inverno prossimo, che infatti mi preoccupa. Mi preoccupa. Ma certamente già nel 2024 io vedo il tema molto con maggiore tranquillità. Poi invece per parlare di prezzi, no? Il tetto del gas. Lei ha ragione. Io sono sempre stato critico su questa frase, frase, tetto al pezzo del gas. Perché se il tetto del gas lo si mette al gas liquido, quindi a quel gas che si carica su una nave e si può spedire in tutto il mondo... Perché uno si illude che magari, Scaroni, questo può essere il freno alla speculazione, ma è sbagliato? Guardi, io già la parola speculazione a me non piace. Perché la speculazione, io la definisco, la schiuma sull'onda. Cioè, quando c'è un'onda, sopra c'è della schiuma. Ma ci vuole l'onda, no? Allora, è chiaro che se uno prevede che i prezzi salgano, anche l'operatore finanziario ci specula. Però è perché si pensa che i prezzi salgano. Se non ci fosse questa previsione data da elementi economici, non ci sarebbe la speculazione. No, non so se... Ecco, vabbè, allora scusi, vorrei finire questo discorso. Allora dicevo, noi, sul tema prezzi, se mettiamo un tetto al prezzo del gas liquido, corriamo il rischio che non ce lo diano. Perché se in Giappone, in Corea, offrono dei prezzi più alti, cosa serve che mettiamo il tetto? Per quanto riguarda il gas via tubo, e mi riferisco soprattutto al norvegese, beh, lì sì che potremmo mettere un tetto. Perché i norvegesi quel gas o lo vendono a noi o non lo vendono. Perché è un tubo collega la Norvegia alla Germania. Ecco, lì però, e torno a quello che dicevo prima, bisogna avere un convincimento politico che l'Europa deve fare. E deve dire, scusa Norvegia, abbiamo preso una decisione tutti insieme. Mi vuoi spiegare perché tu diventi ricca e noi diventiamo poveri? Mettici un tetto. Ma è un'altra cosa. No, questo è un passaggio importante perché Scaroni su questo è stata fatta tanta, tanta confusione. Ritorniamo a quello che ci diceva, l'affidabilità dei paesi. Perché la Russia sotto certi aspetti e quali possono essere a questo punto gli altri paesi? Perché se non si è andato verso altri paesi forse dei motivi c'erano. Beh, dunque, innanzitutto il gas via tubo è intrinsecamente più a buon mercato del gas liquido. Perché il gas è gas, metano, CH4. Allora, quello lì viaggia via tubo, quell'altro deve essere liquefatto, quindi portato a meno 162 gradi, caricato su una nave speciale, spedito e rigassificato. Quindi che costi di più è implicito, no? Quindi per questo noi abbiamo importato gas dalla Russia a un prezzo molto più basso di quello a cui avremmo potuto comprare il gas liquido. Quindi da quel punto di vista la scelta è automatica. Ecco, l'alternativa era l'Algeria e anche la Libia, ma la Libia, vabbè, non parliamo nemmeno, la Libia ci vendeva 13 miliardi di metri cubi, oggi ce ne dà uno, per ragioni interne. C'è stato, c'è per fortuna, questo nuovo tubo che viene dall'Azerbaijan, che ha causato polemiche infinite, ma che finalmente si è stato realizzato. E poi c'è l'Algeria. All'Algeria, grazie a Eini, sono state fatte delle importanti nuove scoperte e quindi quel paese che vedevamo declinante ha ricominciato a esportare di più. E poi avremo gas liquido. E poi avremo, le dice, il gas liquido. Ma se ci fossimo portati avanti con le rinnovabili, non ne staremmo a parlare qui in questo modo, però, Scaroni, ci spiega un po' bene il suo punto di vista di rinnovabili, perché anche qui spesso si fa una confusione, una vale l'altra, le risorse portiamoci avanti, facciamole, come se tutto fosse semplice, come se fosse sempre soltanto qualcosa di estremamente teorico. Ma perché, secondo lei? Dunque, scusate, allora, posso essere per 30 secondi didascalico, direi tanto una cosa. Dunque, le rinnovabili, solare ed eolico, servono a produrre energia elettrica. Ok? Allora, fatto 100 i consumi di energia, l'energia elettrica rappresenta il 20%, l'80% non è energia elettrica. Allora, quando voi aprite il giornale, vedete che in Italia, per esempio, quest'anno, le rinnovabili hanno prodotto 35% dell'energia elettrica, voi dovete dire 35% per 20% fa 7%. Quindi, i nostri consumi di rinnovabili sono stati 7% del nostro consumo. Allora, le rinnovabili vanno bene, benissimo, facciamone il più possibile. Ma pensare che questo 7% diventi 30%, 40%, va sicuro che ci vorranno 10 anni, 15 anni. Quindi, la soluzione ai problemi che abbiamo oggi e che avremo l'anno prossimo non vengono dalle rinnovabili. Allora, facciamone il più possibile, non è che sto dicendo che non lo dobbiamo fare. Dico che prima che questo 7% diventi 20, 30, 40, ma ci vuole un sacco di tempo. Ma questo è stato sottovalutato, non si sapeva? No, no, dunque, la gente che si occupa di queste cose lo sa benissimo. È che l'opinione pubblica spesso confonde energia con elettricità. voglio dire, ma sono due cose diverse che non hanno... Cioè, due cose diverse. L'elettricità è un pezzo dell'energia. Quindi è per quello che cerco di essere un po' di da scarico, cercare di spiegare questo concetto. Perché se no, uno fa fatica a raccapezzarsi. Però adesso c'è la consapevolezza. Almeno nella guerra, diciamo, è stato un acceleratore delle consapevolezze. I troppi no che diceva in apertura anche nel discorso del Presidente Allegri alla fine ci hanno portato su questa strada. Sì, ma dunque, allora, che ci sia la consapevolezza di, diciamo, di realizzare la transizione energetica, di arrivare a quello che si chiama net zero by 2050, quindi arrivare a nuove missioni zero per il 2050 è una consapevolezza diffusa e quella di cui parlano in questo momento a Shambel Sheik. Senza l'India e la Cina. Sì, vabbè, ma diciamo, ognuno deve fare la sua parte, cerchiamo di fare tutti la nostra parte. Certamente, per tornare a un altro tema che trattava il Presidente Allegri, se noi, cioè, diciamo, quanto sono belle le automobili elettriche? Sì, sì, sono molto belle, sempre che l'elettricità venga fatta da rinnovabili, perché se avviene come in Cina, che è il primo mercato per automobili elettriche al mondo, 65% di energia elettrica che è fatta da carbone, beh, non è che dà un grande contributo all'automobile elettrica alla riduzione dell'emissione della CO2. Cioè, l'auto elettrica è pulita se l'energia elettrica è pulita. Se l'energia elettrica non è pulita, l'automobile elettrica non è certo pulita. Quindi, voglio dire, anche qui dobbiamo evitare di fare confusione. Scamela, sto seguendo e devo dire che ci sta portando al governo Meloni, perché se io le chiedessi a questo punto, la consapevolezza c'è, abbiamo capito che non c'è tanto tempo, e se le chiedessi la partita per l'Italia a questo punto, qual è? Dunque, allora, la partita per l'Italia, io credo che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo, ma mi sembra che questo governo, per la verità anche quello precedente lo faceva, per far sì che i temi dell'energia diventino dei temi europei. Io vedo una grandissima difficoltà su questo fronte, adesso in questo momento stiamo parlando di energia, ma potrei traslare lo stesso concetto alla migrazione, i problemi degli immigrati, nel senso che poi alla fine noi abbiamo un'Unione Europea che ha una governance di una complicazione incredibile, piena di vincoli, poco adatta ai momenti d'emergenza, nei momenti d'emergenza mettere insieme 27 stati diventa una cosa complicatissima, e poi io penso sempre che gli stati nazionali sono governati da persone a cui piacerebbe essere rieletti, perché i politici gli piace tutto, ma la cosa che gli piace di più essere votati ed eletti, allora tendono, no, ma se io facessi politico vorrei farlo anch'io, no, non lo dico come critica, mi sembra ovvio, allora finché i governanti vengono eletti dagli elettori del loro paese, è ovvio che abbiano in testa innanzitutto l'interesse del proprio paese, e quindi mediare interessi nazionali su temi delicatissimi come l'energia o gli migranti, mediare da parte di un'Unione Europea che ha una governance farraginosa, complicatissima, e che deve mediare con l'unanimità 27 paesi di cui ciascuno ha dei politici che vuole essere eletto dai suoi elettori, veramente abbiamo fatto la somma, non dico dell'impossibile, ma del molto, molto difficile. Forse si può mediare sul tema del debito, ma il Comune Mezzogaudio perché prima anche paesi come la Germania che ci guardavano, forse lì mi riferisco al patto di stabilità quindi che potrebbe essere a questo punto rivisto su basi diverse, potrebbe aiutare l'Italia vista la situazione. Sì, allora, certo, noi ce lo diciamo qui, siamo italiani, io sono italiano, sono d'accordo. Forse olandese vi assicuro che la pensare è diverso, perché poi alla fine dobbiamo anche capire come ragionano gli altri, cioè dire ma scusate voi vi siete indebitati a rotta di collo, avete cambiato non so quanti governi per prendere voti, avete fatto spese folli, ce lo diciamo noi, quindi che lo dicano loro è ovvio, adesso venite da noi e dice beh, mettiamo insieme tutti i debiti, forse olandese... C'è la Covid e la guerra però. Sì, ma no, dunque, dopo di che sono d'accordo, proviamoci, facciamolo, però di nuovo sono dei dialoghi che non sono facili, io mi auguro che il Presidente Meloni sia in grado di far sentire la sua voce, mi sembra molto determinata a farlo e quindi mi auguro che tutto questo avvenga. Certamente, io penso sempre che buona parte dei problemi ce li dobbiamo risolvere da noi e non continuare a dire quando non sappiamo cosa fare, l'Europa deve, sì, l'Europa deve, ma è costruita in un mondo tale che magari deve ma non ci riesce. Mi sto mordendo la lingua ma gliela faccio lo stesso la domanda, a un certo punto l'Estato tra i papabili al mistero dell'energia, non è la prima volta Scaloni, non è stato soltanto con questo governo, glielo posso chiedere, le sarebbe piaciuto, gliel'hanno chiesto, colpa della stampa come al solito. dunque, allora, primo non mi è stato chiesto formalmente, nessuno me l'ha chiesto, quindi il problema non me lo so nemmeno posto, poi devo confessare che faccio una vita così piacevole, così divertente, anche grazie al Milan, anche grazie al Milan, che faccio fatica a immaginare di dover lasciare tutto, perché sapete, se uno fa il ministro non può più fare nient'altro, nient'altro, tantomeno il presidente del Milan, a un certo punto, no, a un certo punto il presidente Draghi mi ha detto ma vorrei fare, non dico di cosa, vorresti fare il presidente di questa, dico, se ti fa piacere potrei, diciamo, dico presuntuosamente che quando hai fatto l'amministratore delegato dell'ENI, insomma, voglio dire, le tue ambizioni le hai soddisfatte, no, non hai bisogno di averne altre, e dico, sì ma devi dare dimissione da tutto, dico, anche dal Milan, sì, allora non lo voglio, no, basta, per me di avere un piacere Scaroni però devo rispettare i tempi, io avevo chiesto di darmi la coppa della Champions e prima di farla vedere mi hanno detto attenzione perché se lei fa vedere la coppa della Champions a Scaroni noi fischiamo perché la maggior parte qui è dell'Inter, però mi hanno detto, mi hanno detto così prima di entrare della Cremonese capisco ma dell'Inter no allora mi hanno detto che se lei stasera parole testuali ti fa per la Cremonese loro le fanno un bel applauso sul Milan in Champions grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.